È stato un grandissimo onore essere invitato al premio Alberto Madella 2017 presso la Scuola dello Sport del CONI a Roma. Innanzitutto è stato un grandissimo riconoscimento e un onore in quanto l'ho vissuto come un apprezzamento per quello che è stato il mio lavoro e come una visione di come quanto ho studiato possa essere applicato anche alle mie passioni, in questo caso allo sport. Inoltre mi ha fatto molto piacere partecipare alla giornata di oggi piena di incontri molto interessanti, piena dell'elite dell'ambito sportivo da un punto di vista accademico in Italia.